Sottosegretario, il decreto semplificazione potrebbe dare una mano alla nostra regione per quanto riguarda le grandi opere o comunque alcune di queste? Parliamo soprattutto in particolare della Pescara Roma, del modernamento della linea ferroviaria e del raddoppio della Pescara Bari. Sì, è notizia di oggi che il Governo ha approvato questo decreto nel quale ha inserito diverse opere. Attendiamo di leggerlo per valutarne la portata e riteniamo che ormai non sia più procrastinabile interventi sulla Pescara Bari, sulla dorsaladiatica e sulla Pescara Roma anche perché sono interventi di cui se ne parla da anni e fino ad oggi non è stato dato un seguito alle parole. Speriamo che il Governo intenda affrontare con forza questo problema e permetta così all'Abruzzo di uscire da una specie di isolamento nel quale fino ad oggi è stato. La Regione in questi giorni insieme a RFI ha attuato dei tavoli di lavoro e sono state fatte delle proposte. E' chiaro che a questo vorrei aggiungere anche il problema sulla dorsaladiatica dell'A14. Sinceramente è una situazione insostenibile, è una situazione a cui né Aspi né il Governo mettono riparo e che rischia di trasformarsi in una grossa penalità per la nostra Regione soprattutto nel periodo delle vacanze. L'autostrada A14 è diventata un'autostrada impercorribile, sembra quasi una parallela statale 16. Oramai non si viaggia più su due corsie ma solo su una corsia.